Sì, di cosa si tratta? Cosa fa di bello per vivere, Barone Vonzel? Per vivere? La mia famiglia è nel settore bancario, Ernite. Piuttosto lei, cosa fa per vivere? Io? Sono uno scrittore. Ah, scrittore. È un lavoro molto aggressivo. Credo che lei ami particolarmente la caccia. Ho notato le fotografie nella sala qui sotto. Lei e il Barone siete molto esperti. Siamo i migliori. Un giorno o l'altro ne avrà la dimostrazione. Oh, non vedo l'ora di scendere in campo. Ho la sensazione che lei sia un ottimo maestro. Si sentirà molto più coinvolto di quanto riesca ad immaginare. È vero, ma non ho potuto esercitarmi tanto quanto avrei voluto. La caccia è uno sport come un altro. Più ti alleni e meglio... Tutte balle. Cacciare è questione di spirito. Di volontà. Certo. Comunque, posso affermare che il Barone von Glover e io abbiamo più esperienza degli altri membri del club. Siamo andati a caccia insieme molto spesso. Siete andati? Non cacciate più insieme? No, non capita spesso. Intende dire che siete troppo occupati per cacciare oppure che avete litigato? Temo di essere semplicemente cresciuto un po' più di lui. Davvero? E in che senso? Non sarebbe in grado di capire. Oh. Che ne dice di parlarmi degli altri membri del club? Avrei un'idea migliore. Perché non racconta lei a me qualcosa di se stesso? Ma di che tipo? Ad esempio, per quale ragione si trova a Monaco? Oh, beh, ecco, sono solo in vacanza e ho pensato di visitare la città. Davvero? E dove soggiorna qui a Monaco? Piuttosto lontano da qui. In che soborgo esattamente? Non lo so. A dire il vero sto in una fattoria. E sa, non ricordo il nome della zona. Comunque non sarei in grado di ripeterlo. Sì, davvero curioso per qualcuno che dice di avere nobili origini tedesche. Già, ma credo che diventare importante e famoso nel resto del mondo sia sufficiente per la discendenza. Questo club è un posto davvero eccitante. Vi spostate spesso in gruppo? No. Davvero? Non andate a caccia all'estero? Siamo sempre tutti molto impegnati. Mi sembra molto strano. Beh, allora, che mi dice del club? Herr Knight, se desidera sapere qualcosa del club, le conviene tenere la bocca chiusa e gli occhi ben aperti. Ha detto che non andate a caccia tutti insieme all'estero, vero? No, non lo facciamo. Sì, sì, ma quei trofei nella sala qui sotto, ci sono forse delle tigri bianche o dei leoni in Germania? La maggior parte delle battute di caccia riguarda specie molto più comuni, Herr Knight. I trofei là sotto sono delle eccezioni. li abbiamo ottenuti in modo quasi illegale. Oh, credo mi abbia frainteso, barone Von Zell. Io non... Non credo. L'accesso allo scantinato non è concesso a tutti quanti. Di conseguenza, tutto quello che c'è, non ritengo che la debba interessare. Certamente. Mi scuso per l'intromissione, Ian. Come ospite di questo club, sebbene il motivo della sua presenza qui per me sia un mistero, rimane sempre un ospite. Pertanto la invito a limitare... la sua curiosità soltanto nelle aree in cui l'accesso è concesso ai membri di questo club. Sì, me lo ricorderò. Sì, me lo ricordo. Grazie a tutti. Barone Friedrich von Glover vive nella zona di Perlacher. Grazie a tutti. 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 Lei è originario di Monaco? No, sono cresciuto all'estero, ma i miei genitori hanno origini assolutamente bavaresi. Davvero? E all'estero dove? Un po' ovunque. Francia, Inghilterra, Sud America, Nord America. Io adoro viaggiare. Mi parli della sua famiglia? Dei von Glover? La nostra stirpe non è così antica quanto quella dei Rittertemo. È sposato? Ha figli? Non bestemmi. La prego. Mi ricorda tanto qualcuno che conosco. Ho notato che ci sono un sacco di cose che ci rendono molto simili. Per caso ha dei parenti? Come finisce il suo albero genealogico? Io sono l'ultimo. Anch'io. Suppongo che tutti gli alberi prima o poi smettano di dare frutti. Com'è finito qui? Ciò che mi ha portato qui probabilmente non è diverso da quello che ha spinto lei. Volevo tornare nella terra dei miei antenati e così ho fatto. E questo mi fa ricordare che voleva dirmi come ha fatto il casato dei Ritter a finire in America. Ma mio nonno ha lasciato la famiglia ed è andato a New Orleans. Ma lei ha deciso di ritornare alle sue origini. Perché? Beh, se vuole sapere la verità, non è che avessi tante alternative. Sì. La capisco. Mi parli un po' del club. Io preferirei non influenzare la sua opinione. Ad essere onesto vorrei usare una nuova prospettiva. Questo è uno dei motivi per cui vorrei che si unisse a noi. Che ne dice di parlarmi degli altri membri? Ah, sono pochi ma buoni. Lei troverà degli ottimi amici quando li avrà conosciuti bene. Sono diventati membri tramite lei? Sì, la maggior parte di loro. Anche se di tanto in tanto è il destino a scegliere per me. Tutti i membri del club appartengono a ricche famiglie tedesche? Certo. Ma non è così semplice come può sembrare. Io sono un sostenitore dell'autodeterminazione. Ogni membro del club deve realizzarsi personalmente e avere dei meriti. Davvero? Assolutamente. Ad esempio Von Eigner è proprietario di una delle più grandi macellerie di tutta la Germania. E gestisce una rinomata fabbrica di birra. È vero, sono beni che lui ha ereditato. Ma ha incrementato notevolmente gli affari. Una macelleria? Oh. E gli altri? Price è senza ombra di dubbio uno dei migliori avvocati praticanti in tutta la Germania. Di persona è molto piacevole. Ma non puoi immaginare quanto sia feroce in un'aula di tribunale. E Henneman? È dalla parte del governo. Riveste una posizione di spicco. E per di più, il suo nome compare spesso per cariche ancora più elevate. Davvero? Quanto elevate? Alcuni giornali hanno parlato delle più alte cariche di Stato. La cosa farebbe comodo ai suoi amici, vero? Uomini del genere sono un vantaggio per chiunque riesca a conoscerli. E il barone Von Zell? Dunque, la famiglia di Von Zell ha la maggioranza delle azioni di una delle più antiche banche di tutta Monaco. E cosa mi dice dei suoi meriti personali? Gar era... È un giovane molto promettente. È sempre stato il migliore della classe, il migliore in tutto ciò che faceva. Mi pare che ne parli solo al passato, però. Non l'ha conosciuto nel momento migliore. Temo che abbia passato un brutto periodo di recente.